Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di VIPReview Oggi vorrei presentarvi un nuovo costume direttamente da Shazam! Furia degli Dei La Buddy Suite, il cosplay completo, gentilmente offerto da Shower & Buy Cosplay che ringraziamo per questa nuovissima collaborazione Guardiamolo subito nel dettaglio Partiamo dal pacco, come vedete è tutto ben sigillato Guardiamolo subito Questa è la Buddy Suite, è in spandex, quindi un tessuto molto elastico Nella parte frontale sotto il collo abbiamo questa parte semirigida sembrerebbe una pelle morbida che rappresenta il logo di Shazam Ai lati del collo abbiamo gli attacchi per il mantello Frontalmente abbiamo le ombreggiature dei pettorali e degli addominali che ci serviranno dopo per dare un po' di realismo al costume Nonostante sia un costume stampato e quindi non in rilievo ha comunque una bella trama sicuramente rende dal vivo e anche in foto Rispetto alle solite tuttine Zentai mancano i piedi quindi ha comunque la parte dei piedi libera e chiaramente anche quella delle mani Vi faccio vedere com'è l'interno Passando al mantello mi piace molto come è stato realizzato Guardate come sono realizzati veramente bene questi stemmi Sono pesanti e molto solidi Sono pesanti e molto solidi Anche la parte terminale del mantello è completamente stampata Le protezioni per il polso si chiudono a strappo sono fatte in pelle morbida esternamente è un materiale molto morbido all'interno tipo foam Come vedete sono cucite particolarmente bene Stesso identico materiale anche la cintura che si chiude e si apre a strappo Particolarmente importanti per il costume sono gli stivali Tralasciando la scritta AIR che si intravede abbiamo comunque una suola ben fatta che ci consentirà di non avere problemi nel camminare per tenere il piede estremamente comodo Tutto lo stivale è realizzato con una pelle morbida che si chiude con una zippo Una volta indossato come vedete si adatta perfettamente alla tuta muscolare e per il suo prezzo posso dire che fa ampiamente la sua bella figura in fiera Da Shower & By Cosplay troverete tantissimi costumi, tantissimi accessori per i vostri cosplay a dei prezzi veramente interessanti per cui andate subito a darci un'occhiata Io vi saluto, vi ringrazio se il video vi è piaciuto mi invito a lasciare un commento e a seguirmi nel mio canale Ciao! 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 Grazie a tutti.